bellissimo, ha fatto un successone quando l'abbiamo presentato al nostro saggio finale è una cosa molto particolare, loro sono tre ragazzi e una ragazza sono piccoli ma bravi, sono del corso Hip Hop Baby loro vi faranno vedere aspiranti star e lo sono tutti e quattro la coreografia è del nostro bravissimo maestro Francesco Borgato adesso ve li presentiamo Sì! I want to be loved by you, Justin, no one else but you. I want to be loved by you, alone, whoop-whoop-dee-doo. Rob, lob-a-loo-ah-bloop-gas совет a wife. I know he's gone first and never again. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti